Salve tutti e bentornati in questo nuovo video, vi spiego come risolvere l'errore riguardo all'aggiornamento che non è riuscito a installare sul tuo sistema quindi parliamo dell'aggiornamento del Windows 11 versione 23H2 per sistemi basati, l'aggiornamento del KB5036980 io l'ho installato il 26 di aprile però l'aggiornamento risale al 23 di aprile, per ora non ci sono aggiornamenti di maggio quindi se avete problemi ad installare questi aggiornamenti automaticamente possiamo farli manualmente se vai direttamente nella cronologia degli aggiornamenti, quindi vai in Windows Update, vai su cronologia degli aggiornamenti anche se l'hai scaricato, lo provi a installare però dice installazione non riuscita, cronologia degli aggiornamenti ed eccoli qua, tutti gli aggiornamenti vai così a copiare l'aggiornamento che devi fare, eccolo qua, senza le parentesi, fai copia e lo andiamo direttamente a scaricare e installare manualmente fai incolla qua sul catalogo che ti ho lasciato in descrizione e fai la ricerca ed ecco l'aggiornamento ovviamente se non riscontri questo problema può essere che se andiamo direttamente su servizi eccolo qua scendiamo fino a giù fino a trovare il servizio del Windows Update eccolo qua, Windows Update ci clicchiamo sopra se questo stato di Windows Update non è in esecuzione fai avvia tipo di avvio metti manuale e fai applica riavvia il sistema e vedi se si è ripristinato qualcosa su Windows Update se non dovesse essere questo problema può essere la cartella degli aggiornamenti Microsoft andiamo su questo PC disco locale C vado direttamente sulla cartella Windows scendo fino a giù fino a trovare la cartella che si chiama Software Distribution clicco sopra vado su Download cancello questi file qua faccio Continua li cancello tutti e prova di nuovo a scaricare e vedere se puoi installare l'aggiornamento sul Windows Update ora noi andiamo così a scaricare l'aggiornamento qua vado su Download mi raccomando il file deve finire come .mso così facendo potrai installare il tuo pacchetto una volta scaricato così il pacchetto ed eccolo qua il pacchetto deve uscire così .mso il file e cerchiamo sopra e lo installiamo io ovviamente non me lo fa installare perché io ho già installato il programma aggiornamento per Windows KB5036980 già installato nel computer quindi come ho detto se non riuscite a installare automaticamente l'aggiornamento su Windows Update potete farlo manualmente senza nessun problema aspettate che l'aggiornamento si scarichi si installi e poi riavviate il computer quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere l'aggiornamento da fare su Windows 11 questa cosa funziona anche con Windows 10 il catalogo aiuta sempre per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao